Si intitola Succede Casa Micciola, è uno spettacolo scritto da Corrado Visone che verrà portato in giro sull'isola a partire dal 20 novembre che sarà l'anteprima. Allora anche le scuole saranno insedite in questo tour? Sì, è un tour piccolo, tour all'interno dell'isola in cui raccontiamo in una forma di teatro civile un episodio un po' forse dimenticato della nostra isola come il terremoto del 28 luglio del 1883 e Succede Casa Micciola, è diventato un po' un modo di dire, per dire una grande confusione quindi noi raccontiamo quell'episodio partendo proprio dalla risonanza mondiale che ha avuto all'epoca perché è stata la prima sciagura dell'Italia Unita, la prima sciagura nella quale praticamente si è dovuti venire a contatto con l'idea di protezione civile, con l'idea di soccorso, di ricostruzione quindi noi raccontiamo davvero in maniera abbastanza, crediamo, approfondita tutti gli eventi legati al terremoto del 1883 come si è sviluppato poi successivamente nell'opera di ricostruzione perché l'isola ha cambiato proprio i connotati parliamo di Casa Micciola ma parliamo di L'Acquamino, di Forio, un po' di tutta l'isola questo perché è stato un evento che ha scosso profondamente tutto il nostro immaginario e la nostra stessa isola ne ha risentito in maniera fondamentale io con le associazioni che per fortuna ci seguono e ci hanno aiutato a costruire questo spettacolo gli uomini di mondo come compagnia teatrale, la biblioteca Antoniana con la dottoressa Lucia Annicelli e la Pro Casa Micciola Terme che è l'associazione, sono le tre associazioni che hanno creato questo evento e abbiamo intenzione di portarlo un po' dappertutto sia in luoghi non convenzionali, oltre al teatro polifunzionale ma anche per esempio il 20 novembre facciamo l'anteprima all'auditorium della scuola media di Casa Micciola il 27 novembre saremo a Fontana, a Serrara Fontana, al centro polifunzionale perché è un racconto che parla di tutti, dice nome e cognomi e ritrovare una storia che abbiamo dimenticato grazie a tutti